Ciao amici, prima di iniziare con il video ci tengo a ringraziare Hey Happiness per avermi dato la possibilità di provare due dei loro prodotti questi fantastici orecchini e questo splendido braccialetto, io ve lo dico, ne sono follemente innamorata e se li proverete vi assicuro che ve ne innamorerete anche voi sono di ottima qualità, mi fanno sentire bella, radiante e solare, che cosa si può voler di più? ciò che apprezzo di questo brand è il messaggio di self love che vuole diffondere ogni scatolina contenente i gioielli ha inciso al suo interno una frase dolce io ad esempio ho trovato la scritta il sorriso è la migliore cosa che tu possa indossare credo che non ci sia niente di più vero un altro aspetto che ammiro moltissimo è legato alla sostenibilità i packaging sono completamente plastic free e in aggiunta a ciò per ogni gioiello venduto l'azienda si impegna a piantare un albero Hey Happiness mi ha dato anche qualcosa per voi difatti tramite l'utilizzo del codice affiliato will be asmr otterrete uno sconto del 10% su un ordine minimo di 29 euro dal 12 giugno al 15 luglio ma non è finita qui per 10 giorni a partire da oggi utilizzando il codice will be asmr per ordini superiori a 30 euro vi verrà omaggiato un gioiello per ordini superiori a 70 euro due gioielli e per ordini superiori a 119 euro tre gioielli vi lascio in descrizione tutte le informazioni e i link utili fidatevi di me non perdete l'occasione e fatevi un regalo ora vi lascio il video e vi auguro un buon relax ehi! ma ciao piccolina! come stai? sei un pochino agitata? è normale? non devi temere? certo! sai le prime volte sono sempre spaventose e il primo appuntamento è una delle prime volte più spaventose decisamente ma non ti devi preoccupare andrà tutto bene vivrete un fantastico pomeriggio insieme e non accadrà nulla 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 di brutto di cosa hai paura? hai paura di fare qualche figuraccia? tesoro fidati non succederà e nel caso dovesse accadere sarà un motivo sul quale parlare sì sì vi divertirete vi farete una risata e renderete l'appuntamento ancora più indimenticabile fidati goditelo a pieno e non preoccuparti troppo di ogni cosa che ti passa per la testa se sono cose positive ovviamente e semplicemente sei te stessa e sono sicura che conquisterai l'altra personcina che sarà con te allora dimmi un po' che cosa avete in mente di fare oggi? volete andare al cinema? che bello e cosa volete vedere? perché la bella è la bestia è romanticissimo l'hai scelto tu? ah ecco infatti mi sembrava proprio di tuo gusto e poi cos'altro farete? una passeggiata e basta facciamo così facciamo così io ora ti aiuto a prepararti così ti rilassi un pochino parliamo e liberi un po' la mente da tutte queste tue preoccupazioni e poi tu vai se vuoi ti accompagno non ti vergogni di me grazie d'accordo allora direi per prima cosa di mettere un bel po' di crema idratante d'accordo? inizio con il contorno occhi e poi andremo a mettere anche la crema su tutto il tuo visino va bene? e se oggi dobbiamo aggiungere qualche step in più a quello che facciamo di solito e mi raccomando lo stai facendo per te ok? non per l'altra persona ti stai facendo bella per te ti stai solamente prendendo cura di te e solo perché ti fa sentire bene allora ne vado a mettere giusto un goccino sul dito e vado bene sui tuoi occhietti tranquilla chiudi gli occhi brava allora dimmi un po' ovviamente ovviamente se vuoi io ti faccio qualche domanda se non vuoi rispondere sei libera di non rispondere come vi siete conosciuti? a scuola? e di preciso come chi ha iniziato a parlare a chi? ah durante l'intervallo certo beh è stata una cosa carina no? ah ti aveva un po' imbarazzato all'inizio e poi come mai invece hai deciso di continuare la conoscenza? ok quindi ti piaceva ma non sapevi bene come comportarti? certo allora vado anche a picchiettare leggermente picchietto 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 tutta la cremina bene 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 ed ecco fatto adesso ti metto la crema idratante utilizzo questa che è molto molto leggera quindi perfetta per la tua pelle così nel caso dovessi sudare non ti creerà problemi ecco qui l'ho messa un pochino e ora ora vado a farti un bel massiccino si è super profumata ecco ecco qui avete già fatto altre uscite insieme? questa è la prima volta in solitaria ti dico un segreto avete fatto bene a scegliere il cinema come meta così non dovete necessariamente parlare per tutto il tempo e non si creano situazioni di imbarazzo ecco ecco sei una furvetta bene guarda che bella che sei sei bellissima sei bellissima sei bellissima ricordatelo sempre e poi stai crescendo accidente il tuo primo appuntamento mamma mia mi sembra ieri che correvi con la tua bambola in giardino invece oggi guardati qui che signorina che stai diventando ecco ecco allora 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 adesso direi di andare a fare un bello scrabba le labbra non pensare subito a quello no no lo faccio per occuparci di tutto il tuo visino anche delle labbra che sono importanti sì mi farei impazzire vado con questa pennina a applicare questo scrub sulle tue labbra è super delicato se dico così buonissimo bene e faccio un bel massaggio anche qui vado a levare tutte le pellicine sì è importante idratare bene le labbra non solo con i prodotti ma anche con l'acqua devi ricordarti di bere più acqua decisamente a proposito a proposito ce li hai i soldi per il cinema te li ha dati la mamma ok bene cosa prenderai? lo sai già? i pop corn i pop corn la coca la coca brava ottima scelta ah devi dire dei pop corn non tu sei molto furba tu sei decisamente molto furba le situazioni te le vai a creare lo ripeto mi farei impazzire lo so già prova prova vivi fregatene e fai le tue esperienze ma lo sa qualcuno che avrete questo appuntamento oggi oppure è segreto? ok ok la mamma lo sa brava anche perchè non mi sarei presa questa responsabilità onestamente bene ora fai un po' così fai un po' così fai un po' così benissimo e adesso vado vado a metterti un balsamo labbra colorato lascia pochissimo colore ma mi sa che è la cosa più adatta no? che ne dici? questo ti piace? un po' aranciato pescato lascia le labbra lucidine se vuoi te lo lascia da tenere nella borsetta ok bene allora te lo lascio vieni qui vai fai ah bene bene ok andiamo anche sul labbro superiore perfetto fatto fatto ma che bella io direi che con il trucco può bastare così vuoi ancora qualcosa? allora vediamo cosa possiamo mettere mi stai svitando un po' eh se vuoi un po' di blush si quello per le guanciotte che le fa diventare un po' rosse come se stessi arrossendo ti va? ok allora andiamo ad utilizzare quello prendo il pennello io uso questa palettina mischio un po' i colori ecco qui ora fai così sorridi 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 bene benissimo benissimo ok bene 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 direi che così può bastare bastare che ne dici? che ne dici? ancora un goccio perfetto va bene? ecco bene anche il mascara signorina non è che stai chiedendo un po' troppo? ok ok andata si decisamente poco anche perché ti assicuro che sei bellissima così ok non hai bisogno di troppo trucco vuoi sembrare più grande? fidati fra qualche anno cambierai idea ma accontentiamoti allora allora vado bene 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 qui solo sopra sotto no scordatelo hai delle ciglia ma invidiabili decisamente direi che ora è veramente giunto il momento di concluderla con il trucco anche perché se ti vede la mamma ora come ora non so cosa mi direbbe ma ha un segreto fra di noi ecco brava ora passiamo ai capelli ho pensato di vabbè intanto pettinarteli un pochino che non fa mai male e poi perché no passare un po' la piastra ti va? sei libera di fare quello che vuoi nel limite dell'ammessibile ok quindi piastra sì bene allora inizio a pettinarti i capelli divise per caso ti dovesse fare male cerco di andare piano 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 ok ma come ti sei preparata le battute? così ecco potresti dire questa come battuta alla fine quindi prima le sganci poi gli dici chi le avevi preparate fai quello che vuoi fai quello che vuoi a che ora inizia il film? a che ora porti da qui? allora forse dobbiamo darci una mossa non vorrei mai farti arrivare in ritardo guarda sei diabolica? sei diabolica? quindi vuoi creare suspense? capisco capisco spera però che l'altra persona non se ne vada dici di no? va bene nel caso dovessi andarsene via perché se arrivate in ritardo non venire a piangere da me ecco dai arriva in orario dici che anche l'altra persona è ritardataria? ok allora è giustificabile bene adesso ti metto un oglietto per proteggerti i capelli quando andiamo ad utilizzare la piastra va bene? eccola qua si andrà anche a renderti i capelli un pochino più luminosi e profuma senti? ti piace? tutto in uno bene solo sulle punte mi raccomando se le volessi utilizzare anche tu vai sempre solo sulle punte con questi prodotti perché non servono alla radice altrimenti rischieresti solamente di rendere il capello più grasso esatto bene ancora un po' perfetto ora direi di accentare la piastra e di gestolare i capelli eccola qui nel frattempo si è riscaldata quindi possiamo incominciare fatenele pettinare e poi prendo un oglio ok e voilà ecco qui il segreto per fare la piastra bene è prendere delle piccole piccolissime gioche si io non avevo voglia quando la facevo e passavo la piastra così 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 più volte ma alla fine non serviva nulla o quasi nulla invece prendendo poche gioche di capelli alla volta il capello si piostra bene rimane tutto bello liscio vabbè che tu non hai neanche troppo bisogno faccio bene faccio bene questa parte ci siamo quasi e direi che abbiamo fatto allora ti do un'ultima pentinata ok adesso un nodo benissimo perfetti bene bene e ora tu dirai abbiamo finito ma no mancano due cosine la prima la prima è il profumo lo vuoi ne ho parecchi da farti sentire scegliere così potrai utilizzare quello che più pensi si attica al vostro appuntamento al tuo primo appuntamento sceglilo bene perché sarà un profumo che ti porterai come ricordo quando sarai grande allora qui ho un po' di tester se vuoi te ne regalo uno anche quello che sceglierai te lo regalo facciamo così allora direi di partire da questo questo qui piccolino è alien goddess lo spruzzo nell'aria e mi dici che cosa ne pensi buonissimo io sto utilizzando questo ultimamente ok allora sai qual è il problema è che forse io non ne ho molto giovanili allora aspetta cerchiamo di mandare via questo bene allora gucci memory ton de vabbè il francese non è la mia lingua quindi lasciamo da un'altra parte questo forse aspetta annudiamola bene aiuto non riesco a sbruzzarlo aspetta no questo decisamente no questo è proprio da signora però sì direi poi 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 questo del sisley proviamo leviamo quello di prima aiutami aiutami leviamolo via 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 allora questo sentiamo questo forse sa un po' di pera è vero? che ne dici? ti piace? un pochino? ok ti faccio dire qualcos'altro leviamo anche quello di prima via leviamolo via via leviamolo via ok proviamo questo di Tiffany & Go che si chiama rose gold questo potrebbe essere la scelta giusta per te lo so già questo è un pochino più fresco rispetto agli altri forse un po' più giovanile vero? un po' più adatto alla tua età sì direi che questo qui di Tiffany è decisamente quello che fa al caso tuo ti piace? allora te lo regalo te lo lascio nella polsetta insieme al balsamo l'aprati prima allora ti ne vado a mettere uno spruzzo piccolino qui uno qui e uno sul palmo della mano ok? e poi fai un po' così ok? allora metti la testa così ok? ok ora ora posso bene anche l'altro perfetto e ora fai così bravissima un po' così che buono allora ti avevo detto che mancavano due cose la prima era il profumo ok? ok ho qui un regalino o meglio due regalini per te sono due gioiellini che ho comprato apposta per l'occasione li ho comprati dai happiness se lo so che è il tuo negozio di gioiellini preferito quindi ho visto che c'erano degli sconti e li ho presi ho pensato mi sa che questi possono piacerle proprio te li mostro iniziamo con questi qua sono degli orecchini a cerchi oro color oro esatto e sono tutti i tuoi e volevo farvi notare che è carina la scatola e al suo interno c'è scritto a smile is the prettiest things you can wear quindi un sorriso è la cosa più carina che tu possa indossare ho pensato che fosse bellissimo da leggere un messaggio del genere è il giorno del proprio primo appuntamento perché insomma ci si fanno tantissime paranoie su cosa mettere come comportarsi eccetera per essere carini alla fine la cosa più importante è che tu sia felice e sono sicura che se tu sarai felice renderai felice anche l'altra persona e si il tuo sorriso è bellissimo allora che ne dici li proviamo sono contenta che ti piacciono viene qui allora andiamo a metterli bene ecco fatto e anche dall'altra parte bene dammi vedere un po' girati ti stanno da dio ma non è tutto perché c'è un altro ed è in questa scatolettina prova a indovinare che cos'è una collana no un braccioletto esatto prova a indovinare il colore oro ok è stato facile ne hai detto combo con gli orecchini e voilà e anche qui nella scatolina c'è un messaggio carino per te che ha i tuoi raggi di sole quindi ad esempio con il tuo sorriso ricollegandoci a prima oppure con i bellissimi sono belli vero ok gioielli che ti ho regalato guardalo è bellissimo secondo me ti sta benissimo vieni qui dammi il braccio perfetto fammi vedere mettiti così splendida tra l'altro acquistando questi gioiellini hanno anche piantato degli alberi so che ti interessa il tema ambiente quindi mi piace farti sapere che il mio regalo è un regalo quadruplo due alberi e degli orecchini e un braccioletto quindi è qualche albero sparso nel mondo che è tuo di tua proprietà bene sono felice che ti sia piaciuti allora ora come ti senti? un po' meno agitata? mi fa tanto piacere ora cucciola mi raccomando sei te stessa lasciati andare ridi divertiti divertitevi entrambi e passate una bellissima giornata e mi raccomando quando torni mi devi raccontare tu tu dalla A alla Z ti aspetto allora vai ti aspetto ti aspetto va bene? allora poi ci ordiniamo una pizza e ce la chiacchieriamo va bene? ciao un bacio sarei splendida a dopo buona fortuna